Una giornata importante, il primo soprallogo, incontro pubblico con i componenti della fabbrica del decoro. Avremo modo di verificare personalmente quelle che sono le denunce che vengono fuori dai ragazzi dell'associazione della città. Lo strumento della partecipazione attiva e democratica ed è uno degli obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale che abbiamo attuato. Mi ritengo piuttosto soddisfatto, ma la soddisfazione è la soddisfazione dei cittadini che possono avere un'interlocuzione diretta con l'amministrazione e possono verificare insieme all'amministrazione quelli che sono i punti più cruciali in cui va verificata maggiore attenzione, in cui va inserito un'iniziativa per poter debellare alcuni fenomeni nell'etica della legalità e della trasparenza. Su questo l'amministrazione è in prima linea, lo sarà con le associazioni e lo è con la città, quindi dopo il sopralluogo e le verifiche fatte puntualmente avvieremo una serie di provvedimenti per poter dare seguito alle stanze che verranno oggi espresse dai cittadini. Grazie.